E' morta, travolta dal treno, mentre stava rientrando dopo aver trascorso il pomeriggio con la madre e la sorella. Appartiene ad una 42enne di nazionalità moldava, Elena Cantea, il corpo rinvenuto nella tarda serata di domenica sui binari in prossimità della Galleria San Giorgio nei pressi della ferrovia Mandello dell'Ario. A lanciare l'allarme intorno alle 22.30, il macchinista di un treno è in transito lungo la linea. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 insieme ai vigili del fuoco, ma per la donna ormai non c'era più nulla da fare. Una prima visita esterna ha consentito di accertare che le ferite sarebbero compatibili con un drammatico incidente ferroviario. Secondo una prima ricostruzione fornita dagli agenti della Questura che stanno conducendo le indagini, si è trattato di una tragica fatalità. Elena, in Italia da tre settimane, nel pomeriggio era venuta a Lecco per incontrare la mamma e la sorella che lavorano come badanti. Al ritorno avrebbe però sbagliato fermata del treno scendendo ad Abbadia Lariana. Ha tentato di raggiungere Mandello a piedi camminando lungo la linea ferroviaria. Il risucchio d'aria di un treno in transito l'è stato però fatale, sbalzata contro il convoglio, poi catapultata a terra e morta per le gravi ferite riportate. Il macchinista non si è reso conto di nulla. Ad avvistare il corpo è stato il collega del diretto passato poco dopo. Sul cadavere è stata disposta l'autopsia che sarà eseguita nella giornata di domani. Elena era arrivata in Italia solo da una ventina di giorni per lavorare come badante nell'abitazione di un anziano di Mandello dell'Ario. Grazie.